Ritorno all'appuntamento con i libri, tra le righe incontro con l'autore, oggi ho il piacere di avere nei nostri studi un frate, frate Emiliano Antenucci, che ha scritto diversi libri, oggi ne parleremo di uno in particolare, è davvero un grande piacere averlo qui con noi. Ciao frate Emiliano, pace e bene, salutiamoci con il saluto francescano. Allora, gli ultimi saranno i primi, è Fatà editrice, è uno dei tanti libri che tu hai scritto, e quello che vorrei chiederti inizialmente, perché hai deciso di dedicare questo libro agli ultimi? Sei dedicato agli ultimi? Ma perché, come dice la stessa parola, gli ultimi saranno i primi se noi li mettiamo primi, perché gli ultimi sono i cosiddetti invisibili, che per Dio sono visibili. Ecco, ultimamente sono andato a benedire una tomba di un clochard, e la casa famiglia ha messo questa frase nella tomba, per gli altri sei stato invisibile, per noi sei stato importante. Ma questo vale per tutte le persone, perché ogni persona è importante, ogni persona è primo nel cuore di Dio. È proprio così. In questo libro, la prefazione, voglio citare di un tuo amico, Donaldo Bonaiuto, e scrive, ringrazio questo frate di altri tempi, l'amico fra Emiliano, un vero discepolo di San Francesco che ci fa dono di queste perle di verità. Nei suoi scritti sa andare al sodo con un unico obiettivo, trasmettere il desiderio di Dio e l'amore per Cristo. Appunto parli degli ultimi, hai incontrato tanti ultimi nel tuo cammino di frate, e in particolare tu hai fatto anche diverse esperienze in carcere con i detenuti, quindi questo è un passaggio sul quale vorrei puntare un po' l'attenzione. Che cosa impari quotidianamente, stando appunto in un luogo di sofferenza, ma oserei anche dire di misericordia, come il carcere, incontrando i detenuti? Ma innanzitutto, ecco, anche con il mandato che mi ha dato il Papa nel 2016, con il missionario della misericordia, credo che dobbiamo portare speranza, perdono e misericordia. Io vado in un carcere proprio a fare un corso sul perdono e la misericordia. Per chi ha perso la speranza, perché i carceri in Italia vivono in una situazione molto difficile, è come un cane arrabbiato, tu lo metti in una gabbia, può uscire più arrabbiato di come è entrato. Invece io credo che il carcere deve essere un luogo di riabilitazione della pena. Io sono per il carcere, non è che uno ha sbagliato e paga, ma deve pagare, perché tutti possiamo sbagliare, per rialzarsi e essere una persona migliore, diversa. Questo è fondamentale. Altrimenti è tempo perso il carcere. C'è anche un articolo della Costituzione italiana che parla proprio di riabilitare le persone che stanno in carcere. Ti ho chiesto questo anche perché vorrei arrivare ad un'altra testimonianza che tu riporti nel libro, che ti lega a Padre Pio. Tu sei molto devoto al Santo Frate di Pietrelcina e c'è una storia che vorrei raccontassi tu, che ti lega a Padre Pio e a un detenuto anche abbastanza importante per il suo curriculum criminale. Vi lega tutti e tre, una storia molto bella, molto forte. Una storia che mi ha segnato molto. Ritornavo da Roma, era una giornata burrascosa, da un'altra trasmissione di Paola Saluzzi di V2000. Ritornavo da Roma, ho visto diverse chiamate della direttrice del carcere, ho detto cosa è successo. Dice, guarda Padre Emiliano, ho un caso per te, c'è un detenuto abbastanza importante che sta per morire in un ospedale in Abruzzo. Perché non lo vai a trovare, lo vai a confessare. Però ti avverto, questo detenuto è stato sempre scontroso, diceva Parolacce, mai ha voluto un volontario, mai ha voluto parlare con il cappellano. Dici, ma adesso sta dando cenni di debolezza, può darsi vedendo te un frate, tu sei missionario della misericordia, vai. Questo detenuto è un detenuto molto importante perché era il braccio destro di Provenzano, uno dei più grandi narcotrafficanti del Novecento, quindi faceva la spoletta un po' tra mafia e camorra, non pentito assolutamente. E allora io mi metto a pregare, ho detto guarda domani non posso andare, vengo dopo domani. E ho detto adesso mi devo giocare il jolly, perché davanti a un personaggio del genere mi devo giocare i jolly, ho detto mi gioco padre Pio. Allora metto dentro la sacca una reliquia di padre Pio e anche un santino di padre Pio. Arriva il fatidico giorno, cammino, in fondo all'ospedale c'erano le guardie carcerarie che mi stavano aspettando. Dici padre ti stavamo aspettando, dice ma lei è sicuro che vuole entrare da solo? Ho detto, mica è un mostro, ho detto. Vediamo, ho detto, facciamo una cosa, entra con me una guardia carceraria, poi vediamo come si mette, si comporta e poi faccio cenno perché ho detto devo parlarci, confessare. Allora questa è la scena, io entro insieme a questa guardia carceraria, vedo questo signore di 74-75 anni, tutto pieno di tatuaggi, una faccia arrabbiata, un arrabbiato con tutto il mondo, come un lupo, occhi neri e come mi vede a me ancora più arrabbiato. Allora siccome lavorando in carcere ho imparato anche il linguaggio loro, rompo subito il ghiaccio e gli dico lo sai chi mi manda a me? Il mandante, loro diciamo il mandante, lo sai chi mi manda a me? E lui mi fa la direttrice del carcere, ho detto no no, questo qua, padre Pio. Lui cambia totalmente espressione e mi dice padre io ti devo raccontare una cosa, nel 1950 ero in un carcere del sud Italia e padre Pio ci è venuto a trovare, lui giocava con i bambini, con i ragazzi e a un certo punto viene alla cucina, mi guarda negli occhi e gli parla perché è un dialetto beneventano e dice guaglio, tu non devi fare delinquente, mi raccomando guaglio, tutte le volte che ho fatto le cose più brutte ho avuto un'immagine o qualcosa di padre Pio, mi ha perseguitato, mi ha perseguitato e io padre sono stato un grande delinquente, confessami. Dopo del padre e figlio lo confesso, pentito, veramente era pentito, gli do la soluzione e vedo che i suoi occhi cambiano e gli dico guarda i miracoli ancora finiscono, ho portato una reliquia di padre Pio, allora sulla testa gli metto questa reliquia di padre Pio e comincia a tremare come una foglia, dice padre Pio è qui, padre Pio è qui, dice che significa ho detto padre Pio qui, lo sento, sento il profumo e poi mi fa padre, padre Pio è più forte della mafia, dell'andranca e della camorra. Ecco io sono uscito con le lacrime agli occhi da questa esperienza straordinaria di questo uomo e ho pensato una frase di Sant'Agostino, dice l'ultimo nostro respiro è tra l'inferno e l'oceano della misericordia di Dio. Dopo due giorni ecco questo detenuto, questa persona è morta, è morta con i sacramenti e anche poi con la famiglia, quindi per me è stata un'esperienza, ecco grazie a padre Pio, diciamo è andato a te, ha detto confesso, quindi il padre Pio l'ha seguito tutta la vita, l'aveva detto, dice non fare il delinquente e poi all'ultimo momento della sua vita ha mandato, poteva mandare il cappellato nel carcere, ma non era un frate. Esatto, esatto. Fra Emiliano tu sei stato come tanti altri frati e sacerdoti nominati da Papa Francesco missionario della misericordia durante appunto l'anno straordinario che abbiamo vissuto nel 2016, il giubileo straordinario della misericordia, ma tu hai fatto anche un'esperienza in Amazzonia, era il 2007, raccontaci di questa esperienza. Un'esperienza in Amazzonia, un'esperienza con i terremotati nel mio Abruzzo, Adonna, la Tendopoli, ma l'Amazzonia è una vastità grande, è uno dei polmoni del mondo, uno dei posti più belli del mondo e soprattutto ad esempio i bambini, ricordo molto i bambini perché si accontentavano di poco, pure di una caramella, ogni minima cosa, credo che ognuno di noi nella vita deve fare una piccola esperienza di carità e anche missionaria, perché questo ti cambia la vita, poi controlli il tuo piatto, controlli i tuoi vestiti, dici ho troppo, devo essere più povero. Quindi questo vuol dire che non bisogna per forza arrivare dall'altra parte del mondo per essere missionario, ma si può fare... E questo libro mette insieme tutti gli incontri che ho fatto un po', perché la vita è l'arte dell'incontro, ma non tanto io aiuto i poveri, sono i poveri che aiutano me, quindi i poveri, i matti, i fratelli matti, i bambini, le prostitute, il fratello ateo, il prostitute, e sono tutti personaggi reali, giustamente non ho messo il nome, ma sono tutte storie reali, ogni pagina è una situazione, una storia, una persona. Ci sono anche dei passaggi, dei discorsi di Papa Francesco, delle preghiere, alcune scritte da te, altre no. C'è una frase che mi ha colpito, il secondo capitolo, sogno un mondo senza spine, quando dici l'unica dipendenza che non crea dipendenza, ma che ti libera da tutte le dipendenze, è Gesù. E in questo capitolo affronti anche appunto un po' il problema della dipendenza dalle droghe, dall'alcol. Scrivi una cosa molto forte, dici che una volta hai incontrato uno zingaro spacciatore e ti ha detto un vero zingaro non si droga perché bisogna essere forti. Quindi la droga è per i deboli, sensibili, buoni, fragili, falliti della società, gli ultimi anche in questo caso. Come ritorna la parola ultimo nei tuoi libri, in questi tuoi scritti? Ma è importante che ogni persona si senta amata. Noi giudichiamo le persone in base ai ruoli oppure quello che hanno fatto nella vita. Invece ogni persona è figlio di Dio, amato da Dio. Ogni persona è importante, quindi vale il sangue di Gesù, quindi ogni persona vale più del cielo, della terra, dell'universo intero. Comprendere questo è qualcosa fondamentale. Invece noi che facciamo? Confondiamo il peccato col peccatore. Invece bisogna condannare il peccato, il concilio ci insegna, ma salvare sempre il peccatore. Questa è la misericordia. Fra Emiliano, questo libro è davvero ricco di spunti di riflessione, ma così come gli altri tuoi libri. Ad esempio l'ultimo in ordine cronologico, edizione insieme, La tartaruga arriva prima, Manuale di sopravvivenza spirituale, poi ancora Con gli occhi di Maria, Guardare il mondo dal cielo, Felici perché amati, La gioia dei figli di Dio è fatta editrice. Prometto che li leggerò tutti anche perché ci sono degli spunti di riflessione molto interessanti. Io ti strappo una promessa a ritornare nei nostri studi per parlare di questi tre libri, sempre è fatta editrice, che riguardano la calugna, il pettegolezzo e l'invidia. Quindi temi attualissimi dei quali torneremo a parlare. Intanto ti ringrazio di cuore per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a Fra Emiliano e grazie a voi tutti per averci seguito. Grazie a tutti.